Il ciccione che lavora una notte all'anno è mio padre. Natale con i tuoi? Antioquo! Niente paura. Con una famiglia così? Buon Natale. Non ci si annoia mai. I Simpson. Il posto dove ubriacarmi è casa mia. Da lunedì a venerdì alle 14, Italia 1. Ti auguro buon Natale dal profondo del mio cuore. L'avete giata?